Per la prima volta da 37 anni, l'arcipelago è ricoperto di ghiaccio, dalla terraferma fino qua giù, al mare aperto. Ma il ghiaccio è troppo sottile per sostenere un veicolo e troppo spesso perché le barche lo attraversino. Però può sostenere un soldato sui pattini. Per questo voi siete qui. Quindi, date il benvenuto all'operazione Granchio Nero. La vostra missione è di portare le capsule attraverso il ghiaccio. Da Tess e Noi, a qui, il centro di ricerca Odo. Lateralmente, dietro le linee nemiche, come un granchio nel buio. Grazie. 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 Grazie.